Salve 84, Emma Green, chiamata al metro di 88, primo salto per lei, per proseguire le qualificate per la finale, ha preso P, Devenzi, Crencia, la seconda del salto quinto, la finale ha iniziato in lupo con 6,54, 6,53 per la prima, 6,58 per la seconda del corno, 6,52 per tutti i ragazzi, tutti i ragazzi, la Bughanesi. E adesso, San Antonio, Emma Green, ancora la sua cornazionale, la sua verifista, ha passato l'automoto, un rivelo in errore, ma...